Di pubblicità shock, ne abbiamo viste tante in questi ultimi anni e tante di queste erano nel limite del tollerabile, ma quella che è comparsa nella vetrina di una boutique di Bassano del Grappa è davvero indecente, è inqualificabile e addirittura il titolare di questo negozio arriva a dire, ma io comunque penso al senso di ironia, dell'ironia di Andrea Bocelli che è il protagonista di questo cartellone dove la scritta è saldi mai visti, quindi chiarissimo, evidente il riferimento a Bocelli che è un non vedente. A cosa può arrivare il marketing? C'è un marketing che è importante perché deve fare delle scelte coraggiose, deve colpire l'immaginazione e catturare l'attenzione dei potenziali clienti, ma qui siamo proprio alla follia, siamo al cinismo alla massima potenza, cioè alla crudeltà di chi pur di conquistare un cliente in più arriva a questa aberrazione, cioè sfruttare la cecità di un artista importante per ottenere quale risultato, ma a giudicare da Facebook, dai social che si sono scatenati, soltanto cadere nel ridicolo ed essere insultato è giustamente rimproverato. Qualcuno dirà ma è un genio perché si fa comunque molta pubblicità, sì sarà anche vero, però da oggi in poi io credo che tutte le persone intelligenti dovrebbero evitare di entrare in quel negozio, quella è la maggiore ritorsione che si possa sperare di ottenere, proprio disertare quella attività e possibilmente farla fallire, perché non si può arrivare a tanto, cioè a sfruttare la disabilità, le debolezze delle persone per i propri interessi. Io spero che Andrea Bocelli faccia una querela nei confronti di questo signore, soprattutto perché si tratta di furto d'immagine, certamente questa non è un'immagine che è stata utilizzata dopo aver avuto un via libera da parte, un nulla osta da parte dell'interessato, quindi se non altro il responsabile di questa ignominia deve pagare e Bocelli va risarcito e poi c'è un risarcimento di tipo morale che ovviamente a Bocelli nessun altro potrà dare, se non coloro che giustamente decideranno di qualificare questo personaggio per quello che è.